E' a cerchio. E come si chiamava questa? L'Iroi? Maroi. Maroi, perché sto nome? Ma che ne so io? Mi ha un po' più grande. E' enorme. Il soffitto è diverso. Però mi si fanno a un secondo occhiale. Sì, perché è fiato. Cioè, la mascherina. C'è scritto così. Si scivola per terra. Davvero? Molto umido. Qui è bellissima. C'è l'Eco. Dai, un po' di rispetto per i morti. Perché se i loro tecnici sono ancora morti. Certo, la loro anima continua ad esserci. E io non me lo fate vedere. Sto davanti alla luce. Cos'è? Cos'è che l'è? E' lo scalino. Vi prego. E' lo scalino? Non vede che è lo scalino? Vi prego, usciamo che non ci vedo più. Va bene. Stai attento. E' ancora non ti vedo. E' l'unità? Eh certo. Qua si dice, è un alto tasso di mila e fa freddo pure a dentro. E' un alto tasso di mila e fa freddo. L'unità?